Non sono sufficienti le rassicurazioni del vicepresidente della società d'ambito dell'ambiente di Licata, Rosario Miceli, sul pagamento degli stipendi agli operai. Ecco perché i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero per il 2 novembre. Ancora oggi, dice il segretario della CGL, Alfonso Busceni, sentiamo da parte dell'azienda dei Vediamo e stiamo lavorando, mentre nel frattempo è maturato anche lo stipendio di ottobre. La verità è che questa società sembra essere arrivata al capolinea. Infatti, nella migliore delle ipotesi che si paghi la mensilità di settembre, dopo 30 giorni di ritardo, non c'è stato ancora spiegato come si farà a pagare anche ottobre. Non solo non si può continuare a gestire questo servizio senza mezzi adeguati e senza cassonetti efficienti. Per l'anno 2009 non è stato accantonato un solo centesimo per il pagamento del TFR, quindi siamo curiosi di sapere come si farà fronte entro fine anno a saldare il dovuto fondo previ ambiente. A fine ottobre ancora, aggiunge il segretario della CGL, non è stato distribuito il vestiario invernale. Questo stato di abbandono si riflette anche sulla organizzazione del lavoro, dove spesso si improvvisa e non si rispettano le corrette relazioni sindacali. Intanto è stata convocata un'assemblea dei lavoratori per domani, dove oltre a confermare tutte le ragioni dello sciopero del 2 novembre, saranno intraprese tutte quelle iniziative necessarie per fare in modo che i sindaci appartenenti all'ambito escano dal silenzio assoluto su questa triste vicenda, come se la cosa non gli appartenesse. Diverse volte, conclude Buscemi, abbiamo chiesto un confronto con loro attraverso il CDA della Nedalo, ad oggi continuano a sfuggire al confronto. A questo punto è auspicabile che il governo regionale si assuma sino in fondo le proprie responsabilità e attui la riforma che mette fine a questo stato di cose che sprecano denaro pubblico e portano alla esasperazione i lavoratori.